Salve a tutti ragazzi da Mr. Blincheck per questo nuovo, questo secondo gameplay di Eurotrack Simulator 2 ci troviamo come potete notare a Londra, presso questo cantiere sono appena arrivato, ho trasportato un carico, mi sono scordato anche di cosa adesso per non tornare a Maniwot, diciamo, nel nostro bellissimo continente sulla terraferma ho deciso di lasciare l'isola cercando di raccattare un po' di soldi detto dato che dobbiamo tornare indietro, cerchiamo di capire anche un po' se possiamo guadagnare qualcosa Rimorchi agganciato, siamo a Londra, penso possiamo andare seguito al contrario quindi un po' problematico per il vostro Blincheck la benzina, allora, prima di lasciare il nostro cantiere, piccolo l'epilogo qui, trasportiamo un serbatoio di 6 tonnellate per destinazione a questa città, penso sia in Francia o in Lussemburgo o Belgio, perché di pronuncia francese presso una società impronunciabile, l'Ecvlog abbiamo 16 ore, guadagno 6000€, non tantissimo, perché giustamente dove vado, dove sto andando non siamo in Europa, qui si guida da tutt'altra parte, esatto volevo evitare di fare come l'ultimo gameplay, ovvero tagliarlo in più parti per poi riprenderlo e ritagliarlo quindi meglio fare una consegna breve, a corta distanza, però a corto raggio che rischiare di tagliare il video in più parti, senaturare il video stesso come potete vedere ho cambiato camion, un Iveco l'ho requisito a un miatista della mia azienda dato che ho scoperto questo piccolo bug, questo piccolo trucco, chiamatelo un po' come volete ovvero quando il vostro camion è abbastanza danneggiato e avete già un'azienda con altri camion comprati da voi stessi e sono affidati da altri autisti invece di spendere soldi in riparazione, perché le riparazioni sopra il 30% di danni si girano attorno ai 40-30.000€ semplicemente potete scambiarlo con uno dei vostri autisti e dopo 2, 3, 4 incarichi potete riprenderlo, il vostro camion danneggiato come se non fosse già aggiustato, come se il vostro autista l'avesse mandato a riparare quindi magari certo non è molto corretto, non è molto utile però vi ritrovate con i 30.000-40.000€ in più in tasca che oggigiorno non fanno male come potete vedere in alto al destro ho 222.000€ tengo a conservarli perché sono alla ricerca di un garage per ampliare la mia flotta attenzione, controllo elettronico della velocità, ci sono dato fortunato ah no no, qui 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 qui, a posto, perché ci sono i cartelli del controllo elettronico e dopo un po' di metri come potete notare c'è un piccolo autovelox e se magari mantenete la velocità prima dell'autovelox al passare l'autovelox la multa non vi sarà ovviamente leiamo la freccia, continuiamo prendo i mestichiazzi intanto con la guida a sinistra quindi sto diventando un professionista nel settore o almeno lo auguro infatti guardate qui a sinistra, vi faccio vedere questa cosa qui c'è il cartello immancabilmente c'è questa piccola torretta qui a sinistra la vedete, la mi intima di andare a 30 qui questa piccola torretta ciao l'abbiamo superata e niente niente multa, possiamo andare anche a 100 km orari ora dobbiamo prendere la nostra nave, il nostro targhetto imbarcarci e vedere un po' dove dobbiamo arrivare vediamo, vediamo un po' intanto sono le 4 del mattino una bella mattinata qui niente di... non c'è che dire l'onda molto tranquilla ma ricordiamo che siamo alla periferia di Londra di fattorie, centrali idroelettriche altri autisti come me che si è presto ad affrontare questa giornata 3 ore abbiamo detto all'arrivo preventivate e scusate un secondo 2 ore di sonno quindi devo fare anche la sosta potrei anche resistere volendo ma vediamo un po' come si evolve questo nostro piccolo viaggio insieme intanto cercherò di sbarcare sul mio canale con altri video inerenti ad altri giochi non solo l'Eurotrack la mia punta di diamante è FIFA 13 ma non sto riuscendo completamente a capire come posso non snaturare l'HD del gameplay portandolo dalla Playstation su Youtube sto cercando qualche programma che mi può venire incontro nel frattempo come già anticipato nei prossimi giorni cercherò di avviare una partita con voi di FIFA Manager ovviamente il 13 quest'anno ho fatto doppietta FIFA Manager e FIFA normale prossima settimana prossime due settimane molto probabilmente non farò video al massimo uno perché sarò in Russia per motivi personali cioè personali ma ti diciamo si può dire lavorativi dai quindi magari mi fermerò al terzo video farò una piccola una piccola pausa mi raccomando io vi sollecito sempre comunque non l'ha fatto nessuno nei precedenti video ma commentare non so anche una battuta qualcosa tanto per capire un po' se c'è qualcosa da migliorare o meno intanto usciamo da Londra ah l'autovelox non mi ha detto niente perché vuol dire che sono appena in tempo ovviamente questo Iveco è perfetto mi piace anche l'interno molto ben curato davvero più carino dello Scania come interno l'unico difetto è la potenza cioè in salita il carico si sente con lo Scania il carico queste quanto sono abbiamo detto 6 tonnellate 6 tonnellate con lo Scania non si sentono vuol dire in salita si può andare sui 60 70 qui che è successo niente piccolo tamponamento aspettate dove deve andare diciamo anzi no dicevo che con lo Scania in salita in determinate salite si può andare a 70 80 km orari tranquillamente qui già in salita un po' il carico si sente diciamo il camion lo sente parecchio però non ci sono tutte queste grandi differenze anche perché lo Scania è quello più scarso che c'era in concessionario ho apportato solo qualche piccola modifica dopo quindi a parte qualche piccolo dettaglio in più tecnico siamo là con là non varia molto anche se torno a dire l'interno del camion mi piace soprattutto il cruscotto l'iveco soprattutto da qualche giorno penso abbia preso la licenza Eurotrack Simulator perché fino quando l'ho acquistato io una decina di giorni fa l'iveco ha anche il nome di vedo speriamo che succeda lo stesso la Mercedes se non sbaglio qui viene chiamata Majestic quindi è un peccato non vedere le camion Mercedes abbiamo per la fine un logo però anche questo i dettagli sono quelli che fanno la differenza questo è uno dei miei tanti motti quindi può essere anche carino intanto ci dirigiamo a Dover direzione Southampton per imbarcarci mettiamo la nostra freccia bisogna anche spegnere i fali sono luci di posizione in allo strato consentite quindi ci immettiamo per Dover attenzione insalita indicesse insalita attenzione sbandamenti vari ecco vediamo se si può capire ce li dice lo vedete c'è il camion 40 43 41 km in l'area un po' caffanna direzione Dover attenzione qui perché guidano al contrario quindi devo prendere larga 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 sì andiamo a posto intanto è sceso a due ore il tempo io ho un'ora di sonno quindi mi dispiace fare una sosta diciamo bruciarlo un po' così però è sempre meglio che andare a sbandare quella in autostrada vediamo dove è il nostro traghetto ancora non si vede l'orizzonte il nostro gps vediamo intanto che succede mille euro etn grande etn da soddisfazioni ragazzo per ora il nostro autista di maggior successo queste strade sterrate molto british hanno molto di regno unito infatti non a caso ci troviamo nei pressi di londra aspettiamo dobbiamo cercare di tenerlo in carreggiata attenzione curva larga cerchiamo di metterci un po' più dentro mettiamo di sbandare questa è un po' bruttina c'è anche il cartello che ce lo ricorda quindi magari rallentiamo un po' il majestic ne parlavo prima mi è appena passato accanto bella la chiesetta anche lì cosa mi ha fatto lì una chiesetta bella bella una chiesetta tanto il nostro amico incomincia a sbottare però ragazzi guardate evitando magari incidenti mortali guardate cioè per me è fantastico 6 del mattino il sole sorge anche all'orizzonte ci sono le stelle dalla parte il sole da una parte le stelle appunto come nella vita reale quindi facciamo un plauso anche per questo a questo gioco e poi la scogliera cerchiamo però di mantenerci di mantenere anzi una certa concentrazione alla guida anche perché il panzone si accascerà tra poco cerchiamo di non perdere tempo 2 ore 8 intanto è sceso la nostra marcia verso va io ci provo la butto lì mi chiamerei cali cala calais calai verso calai chiamiamola così quindi sperando di aver indovinato l'accento e non aver fatto una pessima figura un dei quattro accenti che ho appena sparato intanto qui in marcia un po' spartano ancora questo camion anche negli esterni un po' spartano vediamo se si può migliorare magari prendiamo un bel po' un altro gruzzoletto intanto con questi 6.000 perché se non sbaglio sono i 6.000 6.800 dovremmo arrivare a quasi 6.800 226.000 euro dovremmo solo riuscire a trovare un piccolo magazzino dove poter deposito diciamo così poter passeggiare i camion e ampliare magari lo mettiamo al nord dell'Europa il mio magazzino è ad Hannover centro-Europa magari lo mettiamo in Gran Bretagna appunto così vediamo intanto il letto in alto nel riquadro in basso ma a destra è diventato rosso che penso che stia morendo 58 minuti infatti normalmente andrà a cadere con la testa sul clacson Arnold 2000 euro complimenti ad Arnold intanto diamo una vita crociera che Londra è sempre Londra anche se ormai siamo a Dover io continuo a ripetere Londra però la città di maggior prestigio è quella 6.53 del mattino ci avviamo a imbarcarci freccia freccia sinistra sì aspettate un momento perché c'è sono molto stanco e si dà un paccheggio per riposare non so se si può dormire in nave forse sono andati in controsenso no 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 sì come funziona qui ragazzi ah lì sbarra aperta allora c'è solo quella sbarra aperta e allora andiamo ah perché non sono scese da qui sono scese un altro traghetto e un'altra nave questo con un po' di problemi con l'orientamento andiamo andiamo saliamo speriamo che c'è l'opzione appisonamento durante il tragetto guardate quante belle macchinine ci sono c'è anche un land rover noi ci mettiamo dietro il carico di legname no non mi sembra di aver urtato un altro veicolo ma ormai siamo quasi milionari milionari no però i nostri soldi ce li abbiamo 400 euro non sono nulla ah proprio arrivo a questa città 384 euro e va bene si possono anche spendere nel frattempo qui stiamo simulando la nostra tratta la nostra traversata siamo arrivati l'omino ha riposato ditemi di sì ah due orette le ha prese dai quindi proprio non sta andando male questo picco questa registrazione questo gameplay spero solo che l'audio non faccia le bizze come l'ultima volta anche perché sarebbe fastidioso più per voi che fastidioso per voi è imbarazzante per me ops abbiamo preso una scaffa siamo qui come funziona invece dove si esce boh e c'è la bandiera ah visto quindi si simula anche il confine o le bandierine è una cosa carina quindi Francia quindi all'Europa i regni uniti giustamente le mettono qui perché qui finisce la non amata Francia allora attraversiamo come mi hanno insegnato a scuola guida cioè buttiamoci e suoniamo strombazziamo vediamo se è simpatico non mi fa passare no va bene piccola vita di autotrasportatore questo è un assaggio di quello che questi uomini impaviti devono subire ogni giorno ovvero lottare con automobilisti abbastanza stronzeschi e ora possiamo continuare 4 minuti ah quindi siamo proprio arrivati ragazzi un gameplay tutto veloce molto rapido così frizzantino come direbbe un amico mio mettiamo freccia a destra anzi no non mettiamo la freccia magari arriviamo a frenare anche in tempo così non saliamo addosso la macchina evitiamo ulteriori danni vediamo vediamo un po' come si rivolve questo finale quindi vabbè non vi ho fatto vedere grandi cose ma appunto con il rischio di diciamo ero un po' turbato non volevo fare veramente una registrazione abnorme iper lunga allora ho detto vabbè usciamo una tratta non troppo lontana invece c'è il rischio opposto vi ho fatto un gameplay un po' piccolino spero che vi piaccia almeno sto compensando quello dell'ultima volta vi ho fatto vedere un po' di uno scorcio di Londra la campagna british così ora siamo in Francia e magari riesco a trovare un lavoro mi piace questo gioco appunto per questo perché posso concatenare i lavori sui giù per esempio arrivo a Londra smollo il carico perché avevo partito da Milano avevo fatto un viaggio di 22 ore quindi più la sosta in realtà erano molto di più però 62 mila euro allora cosa faccio arrivo qui smollo il carico a Londra ho detto vabbè devo tornare giù perché non mi piace guidare nel nel Regno Unito ovviamente perché si guida al contrario quindi i casino e al frattempo c'è una signorina non mi piace guidare nei paesi anglosassoni perché questo è il problema guidare l'altra quindi è un po' un casino ho detto vabbè sono a Londra scendiamo quindi facciamo il gameplay piccolino di poco tempo questa è la tratta più vicina ora che sono qui magari posso ancora scendere ancora di più magari andare nelle zone della Francia e comprare un garage lì freccia a sinistra ci buttiamo come hanno insegnato guardando con dei sonni di clacson e attenzione questo simpaticone qua ancora è più piano siamo arrivati ma forse ma forse quello è un garage no è un hotel quello verdigno è un hotel come direbbero i brasiliani verdigno allora attenzione è larghissima larghissima però sull'onda dell'entusiasmo siamo qui sinistra 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 si entra si entra si entra bonjour siamo arrivati presso la lecve smolliamo il carico in maniera pigra è eccellente ragazzi chilometraggio 167 km ci mancava soldi 6.000 passiamo di livello in diretta non passiamo di livello purtroppo in diretta con voi sarebbe stata una bella esperienza non so vi saluto Mr. Blincheck vi saluta una breve passeggiata in compagnia e quindi ora vi saluto nel frattempo vedo se posso mi è uscito mi saluto molto ululato vediamo intanto qui cosa mi offre cosa mi riserve il destino così per curiosità vostra allora dobbiamo andare a Lione mi darebbero 25.000 euro per 14 ore però considerando che è tutta autostrada si va dritto se no facciamo per chilometraggio facciamo prezzi per distanza 23.000 euro no pannelli di calcio distruzione non mi piace formaggio formaggio questo potrebbe essere un'ottima idea cemento i pomodori 7.000 euro quindi magari questo lo potrei accettare non lo so lo potrei fare al prossimo gameplay quindi vedremo vedremo 7.000 euro e magari scendo pian pianino nel frattempo vi saluto il vostro Mr. Blincheck vi saluta vi invito come sempre a guardare il canale perché a poco a poco si ingrandirà avrà anche altri contenuti spero per voi anche migliori di questo qui perché per ora sono in fase di non dico elaborazione ma sto cercando di capire cosa nel frattempo guardo qualche lavoro qui lì sto cercando di capire come migliorare il contenuto quali videogiochi riuscire a caricare soprattutto come caricarli dalla PS3 vi saluto buon proseguimento come al solito di qualsiasi cosa stiate facendo e ricordatevi del vostro anzi no non di ma del vostro carizzo Mr. Blincheck che sta sempre qui per voi a